Piazza Per il Biscito Piazza Per il Biscito Quando viene invasa dai turisti c'è anche qualche disagio, ma questa è la bellezza di essere una delle città più belle del mondo. A Roma è così, è così a Venezia, è così in tutte le città belle del mondo, sarà così anche a Napoli. I napoletani sono contenti che ci sono turisti perché è un motivo di orgoglio per noi, per la nostra città, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni, ma anche per la nostra economia. Basta vedere quanti turisti stanno nei negozi e nelle attività produttive della nostra città.